The Lions oggi una brutta sconfitta per voi, inaspettata tra l'altro, che succede? Bruttissima sconfitta, bruttissima partita, niente è andato nel modo giusto Non si vede subito, poi Vittorio non era calmo, hanno fatto golle assurdi e poi si è andato subito Abbiamo subito un paio di golle, non siamo riusciti a rimettere in sesto la partita Brutta prestazione, speriamo di riprendersi alla prossima giornata Nessuno da salvare, anche se ha fatto doppietta Kevin non è quello dell'anno scorso Lo sai, io l'ho detto più volte, nessuno è come quello dell'anno scorso, nemmeno io, nemmeno uno Dobbiamo riprendere la forma La tecnica c'è, bisogna metterla in atto, speriamo dalla prossima partita Quindi solo un incidente di percorso questo? Ma un incidente di percorso però è abbastanza grave Un incidente di percorso è abbastanza grave, che non devono affatto subire Gli avversari comunque vi hanno dato qualche filo alla torcia Sì, erano un gran numero Poi erano tutti freschi Corriamolo sempre Brutta sconfitta, brutta sconfitta La prossima non c'è Con i Brasileros, vi riprenderete? Con Filippo Bruno c'è in porta No, no, no Non c'è? Bruno gioca nero almeno a breve Speriamo di riprenderci alla prossima Ho capito, va bene ragazzi, riprendetevi presto Alla prossima, ciao ciao Stox è completo Dall'urlo deduco che avete vinto, vero? Sì, sì, una volta Beh, gran partita 6 a 2 Chi è in Mielo in Cascambria? Complimenti L'altra volta non ha giocato Però torna a dare una mano alla vostra squadra Allora, avete sconfitto una scuola tosta come i The Lions Che non era facile Punto avanti Passo avanti in costanza Sicuramente Già avete dimenticato la pesante che ha posto nella giornata Non ci dobbiamo montare la testa Dopo il rizzo che fa donne Capitano oggi è assente Però c'era in panchina Ma è vero, ha giocato una trentina di secondi Ha giocato una trentina di secondi Io ho giocato una trentina di secondi Un assist Comunque, partita davvero non male Però ragazzi, siete troppi in campo Ecco il vento Tanti si vincere Tanti lo dimostrano Siamo molti ma buoni Ma io aspetterei le nostre tifosi Aspetta un momento Aspetta che c'è il cacca di noi dei tifosi Tifosi, i tifosi non mancano mai Gli stocks Le nostre due tifose che hanno preparato il cartellone Vediamo Gli stocks vincono facile Ma l'altra volta doveva uscire questo cartellone Ragazzi, al prossimo turno avete i Ve lo sapete voi? No Newcastle Newcastle È una storia appena retrocesso Comunque, per sapere, giocherete con Italia, non in Inghilterra In casa Cercherete di ripetervi sicuramente Sicuramente Sarei ad esempio gli stessi dieci? Sì, gli dieci E vuoi giocare Comunque No, no, vabbè Migliore in campo l'ha confermato Scambi 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 Va bene Ok ragazzi, allora ci vediamo alla prossima Ciao ciao